buonasera a tutti siamo in diretta come vedete e in ogni caso c'è il dottor alessandro d'angelizzi che ci parlerà di questo tema di gesù da gesù fino al signor agio pari ecco ci darà dell'incitazione di come avvennero questi passaggi ciao alessandro ci sei sì ciao salvatore ci sono ci sono eccoci qui tu puoi iniziare benissimo io più di questo non ce la faccio a causa delle influenze che ho quindi ti lascio diciamo dire ti lascio tutto il quadro per te e puoi iniziare ok perfetto ciao a dopo dai allora ragazzi questo questa puntata salvatore perché volevo affrontare più di una tematica oggi vedo che tutti i blogger maggior parte sono tutti concentrati a fare distrazione di massa blogger youtuber chi più ne ha più ne metta con delle con una marea di bufale che si susseguono a un ritmo infernale una dietro l'altra e purtroppo il popolo culturalmente ignorante cade nella rete di questi disinformatori massoni e anche magari inconsapevolmente da parte di blogger che non sono dentro tante notizie di di storia per cui cercheremo di fare chiarezza su un bel po di di cosette ci leveremo tanti sassonini dalle scarpe oggi vedete che tutti i blogger se voi ci fate caso ci vengano a parlare di ufo di alieni di faraoni succhianime di parliamo delle ultime la bufala sulla grande tartaria la ridatazione al bufala di fomenco e terra piatta terra cava è un qualcosa di indescrivibile ragazzi tutto questo non è nient'altro che distrazione di massa per nascondere l'unica vera complotto che orchestrano da oltre cinquemila anni una elite di potere kurgan attraverso poi gli israeliti e gli erodiani e le famiglie nobiliari dietro al vaticano che poi hanno venduto la patente per l'usura l'ixos poi spiegheremo chi sono dicevo nascondono l'unico vero truffa che viene compiuta ai danni di tutti i popoli dell'umanità e di questo nessun blogger se ne occupa ditemi voi quanti sono quelli che si occupano della tematica del signoraggio bancario una tematica pensate che io iniziai a portare a parlarne sono stato uno dei primi in italia in televisione radio nel 2007 2008 e nonostante quasi 15 anni di informazione continua su quella che è la più grande truffa che esercitano i danni di tutti i popoli non si riesce a far capire alle persone di che cosa stiamo parlando è una truffa talmente semplice da far rimanere a libri delle persone quasi da non crederci andiamo un attimo con calma prima di arrivare al signoraggio bancario a gesù a tutto quanto immaginate per un attimo che un governo di punto in bianco decida di dimezzare gli stipendi di tutti quanti gli operai e il conto in banca se facessero una cosa del genere ci sarebbe minimo minimo la rivolta il giorno dopo con tutto il popolo sulle strade questo è stato fatto sotto gli occhi di tutti e nessuno se n'è accorto e come l'hanno fatto non è che hanno dimezzato gli stipendi degli italiani anzi negli ultimi 30 anni sono stati diminuiti del 3 per cento mentre quelli degli altri popoli europei sono aumentati del 40 per cento hanno dimezzato il potere d'acquisto dei nostri stipendi con un'inflazione programmata dove praticamente attraverso questa inflazione hanno aumentato i prezzi di tutto quanto grazie alla crisi energetica voluta tant'è che noi compiamo il grasso poi dall'algeria che viene fornito sempre dalla russia no tant'è che l'eni è stata venduta proprio dal signor draghi e da tutti i politici che tutti i partiti eh hanno sostenuto mentre se l'eni era nostra e la potremmo riprendere in qualsiasi momento leggetevi l'articolo 43 della costituzione che recita che lo stato in qualsiasi momento se lo reputa necessario per il popolo può riprendersi tutte le eh industrie che ha che aveva non venduto ma il signor draghi con gli altri politici svenduto al saldo bene dicevo qui in poco tempo ci siamo visti raddoppiare i prezzi dei generi alimentari di ma di tutto delle edilizie è un continuo aumento non è un mese dopo l'altro qui una settimana dopo l'altra ci sono aumenti continui che hanno dimezzato il potere d'acquisto di tutti quanti non solo ma anche i risparmi in banca di tutti gli italiani perché se prima uno aveva diecimila euro in banca o centomila euro adesso con quei soldi il potere d'acquisto è dimezzato quindi lo hanno fatto sotto gli occhi di tutti senza che nessuno se ne accorgesse nessuno si lamentasse dando la colpa a questa tra virgolette guerra progettualizzata dall'alto e se noi parliamo di signoraggio bancario che cosa è questo signoraggio bancario e perché nessun blogger ne parla anzi se io parlo in eh qualche trasmissione quando mi invitano eh mi bloccano subito eh per non farmi parlare di questa tematica perché è la più grande truffa che sia mai stata perpetrata ai danni dell'umanità uno stato per essere democratico deve rappresentare e coincidere con il popolo e l'articolo uno della costituzione recita che il popolo è sovrano e tra la sovranità che un popolo deve avere la funzione più importante di questa sovranità da che cosa è rappresentata da una cosa molto semplice dalla sovranità monetaria ovvero uno stato deve avere una sua banca centrale che deve avere la facoltà di stampare denaro per far fronte a tutte le evenienze e ai pagamenti per pagare i beni i servizi eccetera eccetera invece che cosa è successo è successo che nel 1991 Banca d'Italia è diventata che doveva essere per la costituzione una banca di diritto pubblico è diventata una SPA privata sono state vendute le quote di Banca d'Italia e Banca d'Italia una percentuale del 14,7 per cento della BCE tutte le banche centrali fanno capo poi alla BCE ma stiamo parlando di una SPA privata e che cosa fa la banca centrale quando servono soldi agli stati crea questi soldi dal nulla con un bit digitale e li mette a debito agli stati e quindi al popolo che devono poi restituire questi soldi creati dal nulla inverati cioè soldi creati dal nulla che poi loro riprendono inverati perché prima non esistevano e in più deve pagarci sopra degli interessi impagabili perché tra l'altro poi quei soldi di questi interessi non vengono tra l'altro stampati e vediamo allora a quanto corrisponde l'usura del signoraggio bancario facciamo un esempio se al nostro Stato cioè se al popolo italiano servono dei soldi per finanziare qualsiasi cosa la sanità la bonifica del territorio servono 10 miliardi lo Stato crea 10 miliardi e li mette a credito più 10 miliardi se li stampa la BCE questi miliardi che cosa fa li crea ugualmente da nulla ma non li mette a credito ma debito meno 10 miliardi quindi ragazzi l'usura in questo caso non è neanche del 100 per cento ma del 200 per cento più gli interessi che devono che dobbiamo restituire restituire su questi soldi che hanno creato dal nulla allora la domanda è ma che cos'è allora questo denaro se noi prendiamo un metro a cosa serve un metro è una funzione ben precisa dobbiamo ripartire dall'abc per farvi capire le cose piano piano un metro serve a misurare una distanza se noi abbiamo due punti uno qui e uno qui attraverso un metro possiamo prendere la distanza tra questi due punti mettiamo sono 20 centimetri alla stessa maniera il denaro a cosa serve il denaro non serve altro che a misurare il valore dei beni e dei servizi che noi produciamo al fine di poterseli scambiare altrimenti dovremmo tornare al baratto ma chi è che crea i beni e servizi beni e servizi vengono creati dal popolo ok ora mettiamo che io ho prodotto dieci pacchetti di sigarette a prezzo di 5 euro l'uno sono 50 euro un altro ha creato un cellulare prezzo anche di questo 50 euro se noi ma oltre questo mettiamo che poi ci sono altre produzioni di tantissime altre cose ovviamente in un sistema complesso come le nostre società non è possibile tornare al baratto per scambiare quello che noi produciamo quindi usiamo come sistema per poterci per per misurare il valore di quello che produciamo proprio il denaro che in sé per sé non dovrebbe avere nessun valore noi potremmo usare anche una semplice carta punti dove si quantificano attraverso questi punti il valore di quello che noi produciamo così come del nostro lavoro per poi scambiarci quello che abbiamo prodotto quindi per fare per scambiarci questi due prodotti lo stato dovrebbe stappare 100 euro invece che cosa succede che questi 100 euro vengono stappati dalla bce che ci rimette a debito meno 100 euro più gli interessi e questo che cosa vuol dire ragazzi una cosa molto semplice e noi se dobbiamo restituire poi questi 100 euro alla bce e questi 100 euro non rappresentano il valore di un cellulare di 10 pacchetti di 10 pacchetti di sigarette e di un cellulare che abbiamo prodotto ciò che noi abbiamo creato con la nostra forza lavoro non è di nostra proprietà ma è di proprietà di colui a cui dobbiamo i 200 i 100 euro cioè di questi furfanti ladri parassiti del nostro lavoro che si servono dei politici per portare avanti la loro truffa i banchieri quindi che cosa hanno fatto hanno corrotto tutti i politici hanno fatto con delle leggi sì che i politici cedessero la sovranità monetaria ai banchieri e adesso ci troviamo sotto dittatura quindi di fronte poi a un'inflazione lo stato poi diventa impotente vuoi usare quanto vuoi le tasse ma non con questa inflazione che abbiamo lo stato andrà prima o poi in default perché perché il potere di acquisto del popolo si è dipensato nel momento in cui viene si crea questa rarefazione monetaria attraverso questa altra tassazione che noi dobbiamo lo stato ci prende per darla poi ai politici per pagare questi interessi la rarefazione monetaria che cosa comporta comporta un fatto molto semplice che noi abbiamo a disposizione meno soldi per poter acquistare merci e quindi si blocca tutto il meccanismo industriale se io prima cambiamo la macchina ogni dieci anni adesso sono costretto a non potermi comprare una macchina nuova per sostituire la macchina vecchia non solo non posso neanche più cambiare le gomme come prima c'è gente che cammina senza assicurazione o con le gomme lisce che è costretta ad andare al lavoro e non ce la fa e davanti a questo scenario inverosimile che cosa succede che la bce aumenta i tassi di interesse così non solo le persone hanno meno denaro per poter acquistare ma si trovano anche sono tantissime le persone circa 20 milioni di o ma di più addirittura 30 milioni mi sembra di persone che hanno dei mutui in corso in italia non hanno più soldi per poter far fronte al pagamento di questi muti e questo farà sì che le banche centrali arriveranno a fare la spazzolata finale ovvero pignoreranno i beni di tutti gli italiani ed è un meccanismo un giochetto che fecero già nel 1929 no con in america con la grande depressione perché poi quando siamo in un regime di inflazione vengono alzati i tassi di interesse si va in recessione e ovviamente che cosa succede abbiamo detto il popolo non può più acquistare le fabbriche riducono la produzione e quindi licenziano non ci sono soldi per pagare gli ammortizzatori sociali non ci sono soldi per pagare il reddito di cittadinanza a chi non ci saranno soldi più per niente e il sistema salterà e andrà in default ma quando è partito questo sistema di usura ai danni di tutti i popoli beh con le nostre ricerche abbiamo visto che ci troviamo davanti a una dittatura plurimillenaria che dura da oltre 5.000 anni questa dittatura fu imposta da un'elite di nostri antenati guerrieri kurgan che usarono l'organizzazione militare quindi la forza bruta con asce e mazze di pietra per dominare gli altri popoli il primo popolo che sottomisero fu il popolo la popolazione autocnona della terra di sumer i famosi i gigi quelli dalla testa nera li sottomisero con la forza gli fecero bonificare i canali creare città stato poi iniziarono ad usare l'usura prestavano le sementi ai contadini ma poi non si facevano restituire tutto il raccolto per mantenere un indebitamento perenne l'organizzazione militare poi con il passarete del tempo dei figarono i loro antenati kurgan parliamo di ellil enchi lo stesso adamo figlio di enchi e mark book lo ritroviamo a babilonia eccetera eccetera furono dei figati per costruire la religione altro strumento per sottomettere sottomettere tutti i popoli di questo abbiamo portato tantissime prove documentali archeologiche etimologiche abbiamo ricostruito cinquemila anni di storia e beh queste scoperte danno fastidio quindi bisogna far sì che questi anunna o elohim non si sveli la loro identità e quindi da inventati dei per costruire le religioni adesso è nata una trasformazione pseudo scientifica per farli diventare inventati alieni ed ecco qui allora che tutti i blogger youtuber si buttano su questa pista su gli annunaki termine non esiste in sumero ma solamente in accadito annunna vuol dire eh progenio semenza dei primi governatori questi figli di puttana o principi e quindi cercano di eh mistificare attraverso una disinformazione mirata eh quella che è una realtà storica che stanno coprendo da ben eh cinquemila anni per coprire i veri responsabili di cinquemila anni di guerra e di usura ai danni di tutti i popoli perché prima dell'avvento di questi personaggi esistevano delle società equalitarie la cultura che occupava l'Europa centrale dove c'erano le società neogilaniche società dove si viveva senza religioni senza guerre dove lo stesso governatore aveva una casa con la stessa cubatura dei suoi concittadini dove ancora non esisteva questo sistema di dittatura piramidale che dall'alto poi eh tende a schiacciare i popoli che si trovano all'ultimo gradino di questa piramide e quindi capite bene che tutti i blogger o youtuber sia consapevolmente o inconsapevolmente che stanno portando avanti questa mistificazione di questi eh personaggi che erano cercando di spacciarli per alieni stanno facendo un favore non da poco a questa elite millenaria di potere un'elite millenaria che poi arrivò fino agli israeliti e da lì fino a gli erodiani e lì abbiamo fatto un'altra scoperta storica di livello mondiale che stanno cercando di censurare in tutti i modi e sì perché perché con le nostre scoperte che cosa abbiamo scoperto uno che Gesù era l'ultimo figlio del re ero del grande voi direte ma che ci interessa a noi adesso la storia di Gesù con tutto quello che siamo subendo c'entra e come ragazzi cercate di aprire di adrizzare l'intenne e di aprire per benino le orecchie c'entra perché abbiamo detto che dai curgan e poi dagli israeliti si arriverà fino agli erodiani e abbiamo scoperto che Gesù era l'ultimo figlio del re ero del grande e guarda caso negli annali ecclesiastici 11 libri scritti in latino dal cardinale Cesare Baronio che cosa abbiamo scoperto che fu proprio San Pietro e Gesù quando mise in campo ai 72 in tutto il Mediterraneo a fare vescovo Orsini in Francia sappiamo poi che Maria Maddalena stessa nelle leggende medievali ce la ritroviamo in Francia quindi cosa possibile perché per gli eventi che si successero in seguito ma di cui oggi non ci occuperemo e da questa dinastia casata degli Orsini ritroveremo addirittura il generale Orsini sotto Costanza il figlio dell'imperatore Costantino colui che promosse il cristianesimo abbiamo l'allaccio fino ai Colonna e alle altre casate nobiliari da cui usciranno papi e cardinali le famiglie nere dell'aristocrazia nera cosa successe poi che il Vaticano e quindi da questi personaggi dell'aristocrazia nera usciranno papi cardinali eccetera eccetera che aveva banchi di pegno con cui prestava interessi denaro alle persone ma in genere anche persone che avevano anche molti soldi per promuovere le loro attività cedettero la patente per l'usura a personaggi che venivano da Gerusalemme pensando che quei personaggi che venivano da Gerusalemme appartenessero alla loro stessa etnia altra scoperta importantissima che faccio sul libro Mosè il fratello del faraone Akenaton qual è stata? dentro nei siti di cultura ebraica vedete ragazzi Mosè il fratello del faraone Akenaton cambia tutta la storia censurata anche questa scoperta perché trovo tre fonti indipendenti del primo millennio avanti Cristo uno era un sacerdote egizio, Manetone, uno uno storico, Ceremone un altro, un sacerdote Oniane quindi appartenente alla stessa famiglia di Gesù di Simago che ci raccontano una storia molto particolare quando io entrai in questi gruppi feci questa scoperta chiesi scusate potete dirci chi sono gli ebrei? e tutti quanti mi risposero gli ebrei sono i discementi degli israeliti falso così non è queste tre fonti indipendenti l'una dall'altra ci dicono che chi costruì la città di Gerusalemme furono gli Ixos chi erano gli Ixos? ce lo dicono sempre Ceremone, di Simago e Manetone erano un popolo di razziatori che campavano quindi di razzie ai danni dei popoli vicini che invasero il delta del Nilo nel 1750 si addensarono nel delta del Nilo poi occuparono l'Egitto per circa 190 anni intorno al 1720 dopodiché vennero cacciati dai faraoni Mose I e Camose una volta che furono cacciati costruirono la città di Gerusalemme e richiamano questi personaggi razziatori di popoli vicini lebrosi, impuri e sacrilegi bene, Mose era discendente degli israeliti quindi non appartenente alla razza degli Ixos ma poi con le nostre ricerche abbiamo scoperto che Mose tradì il popolo degli israeliti per allearsi proprio con questi Ixos e addirittura sterminò i Madianiti che appartenevano alla sua stessa famiglia per quando si alleò con questi Ixos avlo gruppo dei Kurgan quindi non di questi Ixos R1-B avlo gruppo dei faraoni egizi Akenaton Amenofi Terzo, padre di Akenaton Tutankamon, figlio di Akenaton R1-B1-A2 quindi appartengono sempre al popolo dei grandi costruttori Kurgan da cui sono discendenti questi Ixos invece appartengono all'aprogruppo J ed erano gli allevatori di Capri e agricoltori che seguivano i grandi costruttori bene il signor Rothschild che ha preso in mano ma parliamo dell'elite e non di tutto il popolo ovviamente a noi non ci interessa mettere in mezzo tutto il popolo ma l'elite di questi personaggi quindi l'elite Kurgan l'elite di questi Ixos il caro signor Rothschild appartiene all'aprogruppo J2 ed è colui che poi ha preso in mano le banche centrali in tutto il mondo tant'è che loro hanno li troviamo artefici nella rivoluzione francese nelle guerre di indipendenza in America nella rivoluzione borsevica ovunque come finanziatori della seconda guerra mondiale finanziatori delle guerre finanziavano entrambi gli schieramenti e finanziavano poi la ricostruzione dopo la devastazione di queste guerre e io ho detto cari massoni voi avete tradito il popolo dei grandi costruttori vendendoci nelle mani dei nostri ex garzoni allevatori di grave agricoltori che ci seguivano ovvero gli exos e quando parlo di grandi costruttori i grandi costruttori non sono venuti dall'elite Kurgan ma dal popolo Iram era che intervenne nella costruzione anche del tempio di Salomone era un architetto del re Tiro gli ingegneri gli architetti sono usciti sempre elementi dal popolo non da questa elite di assassini guerra fonduali incestuosi che per cercare di non disperdere il potere facevano matrimoni tra di loro quindi tra cugini tra fratelli e sorelle per incrementare sempre di più il patrimonio per contro al fine di poi il denaro e il potere e quindi col potere si esercita per sottomettere i popoli per corrompere i politici per corrompere tutti quanti andiamo quindi alla faccenda di Gesù capite ora perché è importante che le nostre scoperte storiche vengano a galla e perché sto accusando tutti i blogger di fare congiura del silenzio su queste scoperte storiche e di star portando avanti della disinformazione e distrazione di massa mentre ci stanno togliendo tutto parlando di inventati alieni con cui vogliono creare questa nuova religione new age e vorrei ricordare che nel World Economic Forum c'è addirittura il caro Papa Bergoglio insieme a Rothschild cari ragazzi nel progetto Davos e allora ripartiamo un attimo dalle nostre scoperte storiche su Gesù scoperte storiche di livello mondiale sono le più grandi scoperte storiche di tutti i tempi e non riescono ad avere sbocco da nessuna parte perché che cosa abbiamo scoperto parliamo di due fonti indipendenti una dall'altra abbiamo usato per riuscire a fare queste scoperte una da parte dello storiografo Tito Flavio Giuseppe in guerra giudaica in antichità giudaiche che cosa ci fa sapere sì scelti da Farnese intorno al 1770 Davide Palmas tu sei uno di quelli che sa che conosce bene queste famiglie nobiliari allora che cosa successe ci dice Tito Flavio Giuseppe che ci fu una cospirazione ai danni del re Erode in questa cospirazione partecipò la terza moglie di Erode che si chiamava Maria figlia del sumo sacerdote ad Alessandria d'Egitto Simone figlia di Boeto e Teuda che prese il veleno oltre a un figlio di Antipadro che non neanche vi nominerò per non confondervi le idee questo Teuda fu colui che prese il veleno per avvenenare Erode Erode scoprì la cospirazione ce lo dice nei loro testi facciamo vedere il re dei re e abbiamo scritto quattro libri su questo argomento il primo è il re dei re poi c'è il sosia Gesù all'ultimo figlio di Erode e i sigari e ci dice Tito Flavio e Giuseppe che confessarono i fratelli di Maria sottoposti a tortura due sommi sacerdoti Giozzar e Lazzaro vado sui testi copti ritrovati a Nagammati del 1947 testi quindi completamente in Egitto si trovano a Nagammati indipendenti da Tito Flavio Giuseppe che scrisse per Roma a Roma per l'aristocrazia romana quando parlò delle guerre giudaiche di tutta questa questa storia e in questi testi copti ritrovati a Nagammati che cosa si dice che Teuda era il marito di Maria e questo Teuda ebbe da Maria quattro figli più delle femmine ovvero Giacomo fratello di Gesù Giuseppe Giuda e Simone ok non solo veniamo a sapere anche da altre fonti da papiri eccetera che Giuda ha un fratello che si chiama Giuseppe ed è Giuseppe padre putativo di Gesù questi quattro figli che ebbe Maria con Teuda sono i stessi quattro figli che ritroviamo poi citati nei Vangeli canonici quando si dice non è Gesù il figlio del Carpentiere non sono questi i suoi fratelli Giacomo Giuseppe Giuda e Simone quindi che cosa è successo è successo che Teuda Giuseppe Maria e il primo figlio di Erode il Grande Antipatro organizzarono una questa è la Maria dei Vangeli signori la cara Vergine Madonna Benedetta e Santa organizzarono una cospirazione per uccidere il re Erode Erode scoprì la cospirazione dopodiché ci dicono che Giuseppe e Maria fuggirono a Belem falso è stato ripreso da testi dell'Antico Testamento per far convergere le profezie di Geremia Isaia eccetera eccetera hanno costruito tutto quanto ad hoc il vereno Teuda sappiamo che lo fecero venire dall'Egitto lo prese dall'Egitto lo prese un personaggio che si chiamava Antifido che glielo portò Maria era la figlia di Simone che era sacerdote ad Alessandria d'Egitto tutta questa famiglia veniva tutta d'Alessandria d'Egitto appartenevano agli Oniadi ma lo stesso Erode il Grande poi suo nonno Antifa si trovò dentro una guerra tra retto le maici e si imparentò con la casata degli Asmonei ma lasciamo perdere tutta questa storia troverete tutto nei libri altrimenti vi confondo le idee e quindi che cosa successe che una volta che Erode scoprì la cospirazione questi personaggi fuggirono ad Alessandria Alessandria d'Egitto è una metropoli ed era l'unico posto dove avevano familiari e dove potevano nascondersi con sicurezza pensate che Bedremme si trovava a soli 10 km da Gerusalemme ma pensate se Erode non li avrebbe immediatamente trovati si vanno a nascondere a 10 km di distanza per favore non scherziamo e perché loro non ne escono che vedete un mese fa dentro un gruppo dissi a un professore del Vaticano che è il dottorato in Kumram dico lei si rivolge a persone che non sono efferate nell'argomento venga a fare un confronto pubblico davanti al sottoscritto e lui rispose io non ho nessun problema io faccio confronti con chiunque lo fece chiamare dalla giornalista dall'Egitto Anna Turletti beh dopo qualche giorno gli dà la risposta ovviamente a quel punto è andata a vedere le documentazioni che avevo trovato e gli ha risposto che non era disponibile a confrontarsi con me perché poteva risultare compromettente ragazzi il problema è che è compromettente perché perché loro non possono confutare queste documentazioni e essendo impossibilitati a confutarle l'unica cosa che possono fare è congiura del silenzio ed evitare di confrontarsi perché i documenti che presentiamo non sono confuttabili qui abbiamo da una parte Giuseppe Flavio che ci dice che Maria e Teuda cospirarono contro Erode il Grande e Maria era la moglie dell'Erode il Grande da un'altra abbiamo e questo Tito Flavio Giuseppe in Egitto i testi coppi che ci dicono che Teuda sposò Maria ed ebbe questi figli e sono i stessi figli di che ritroviamo nei Vangeli non solo ce ne ha detto che Giacomo è fratello di Gesù e Giacomo fratello di Gesù ce ne parla anche Tito Flavio Giuseppe i Vangeli canonici e quindi i ragazzi loro da questa storia non ne escono a questo punto cade il cristianesimo il problema è che su questo argomento loro mi hanno anche intervistato tanti blogger perché? perché nel momento in cui devono costruire una nuova religione New Age resettando questi kurgan da dei Elohim in inventati alieni Gesù è un personaggio scomoco e andrebbe purato per portare avanti questa questa fantasiosa teoria il problema è che poi io sono andato a toccare anche l'origine del potere e quindi dimostrando come quei kurgan furono dei figati poi per costruire i dei sumeri i dei egizi perché Cam uno dei figli di Noè alias Zio Sutra decimo rete della lista reale sumerica andò in Egitto nel il 29 giugno 3123 avanti Cristo una cometa la cometa barca devastò la terra di sumer abbiamo portato le prove con i testi delle lamentazioni che in Italia non trovate antichissimi testi devastò la terra di sumer e la valle dell'Indo e diede origine e ecco perché poi ci fu la scomparsa della civiltà di sumer e uno dei figli di Noezio Sutra Gamma si recò proprio in Egitto dove diventerà il famoso re scorpione rappresentato con la mazza di pietra Kurgan in mano due suoi figli che erano Cam Ham Amon di Egizio erano Mizraim che verrà deificato che vuol dire Egitto come Osiride e l'altro era Kush da cui nacque i re cusciti che verrà deificato come Set quindi sempre da questi personaggi si originarono poi gli dei egizi e la cultura egizia tant'è che poi i zigurat che costruivano in Mesopotamia ce li ritroviamo poi in Egitto con la prima piramide costruita a Zaccara piramide A Gratoni e questo la cometa Bark è intorno al 29 giugno 3123 a.C. questi personaggi sapete quando sono datati il loro arrivo in Egitto al 3100 a.C. quindi cade la cometa Cam e i suoi figli arrivano in Egitto boom siamo lì con la datazione perfetta non sono mazze gurgano in mano si ritrovarono un popolo di pastori che sottomisero immediatamente perché si erano organizzati militarmente schiavizzarono quindi i popoli fatti da gente povera pastori che vivevano lì in Egitto e li sottomisero per i loro porci comodi ma poi tra l'altro di queste piramidi noi abbiamo abbiamo tutto abbiamo le cave con i segni di piccolamento con i segni di dove venivano fatti gli intagli per far cadere i blocchi granitici come li trasportavano addirittura i cunicoli dove venivano venivano portati con le funi abbiamo tutto ragazzi abbiamo le mappe dove loro i papiri dove si fa si vede che conoscevano già la trinometria la matematica il pigreco beh il giochetto è quello di farceli passare per un popolo di grezzi analfabeti che hanno che non potevano costruire queste piramidi e che quindi hanno usufruito di tecnologia aliena per costruire queste piramidi così non è ci troviamo davanti a una a una mistificazione enorme e questa è mistificazione queste bufale non sono solo queste ne stanno creando una dietro l'altra getto continuo le ultime da ridatare tutte le storie dell'umanità con Fomenco la grande tartaria cioè ragazzi è qualcosa di e le persone che fanno vanno dietro a tutte queste bufale quindi capite bene che questo è un bel progetto di distrazione di massa mentre ci stanno mettendo a tutti quanti con il culo per terra togliendoci tutto ritorniamo a parlare di signoraggio bancario aspetta all'esati volevo chiedere una cosa c'è addirittura chi dice che Gesù era Giulio Cesare che addirittura stanno inventando tante abbiamo trovato tutto ragazzi abbiamo trovato tutto chiunque fa affermazioni venga a confronto con il sottoscritto non abbiamo nessun problema possiamo portare tutte le documentazioni che vogliono il problema è che nessuno viene a confrontarsi con il sottoscritto Salvatore si trovano dei documenti che non possono confutare io li posso riposare io provo a chiedere a più che un privato se vuole partecipare tutti che si tirano indietro nessuno lo vuole fare l'unico che ha avuto il coraggio di dire se io sono d'accordo era quella quella ebrea Askenazita che ti avevo detto Askenazita è un'altra bufala che stanno mandando in giro perché Askenaz era figlio di Gomer figlio di Iafet Iafet era un altro figlio di Noè e Askenaz sbarcò a Reggio Calabria ce lo dice lo storico che l'ho fottito Flavio Giuseppe tant'è che Reggio Calabria ci dice dall'ina quel popolo di Regini e c'è addirittura la via dedicata ad Askenaz il loro giochetta è quello di mettere in mezzo mille bufale per coprire una sola verità che non è complottismo e che è la truffa della moneta tu debito e il signoraggio bancario quindi se prima non sapevano adesso queste persone vanno messe davanti alle loro responsabilità perché stanno tradendo il popolo dei grandi costruttori no? e tutti i blogger che stanno portando avanti questa disinformazione stanno facendo i servi dei servi del potere cioè di questi massoni quindi se non sanno si chiarissero le idee mi chiamassero porteremo tutte le documentazioni dopodiché devono prendere una posizione ben precisa tutti quanti questi blogger perché in questo momento chi sta portando avanti questa disinformazione sta facendo un gioco del potere contro tutti i popoli dopodiché i servi i servi dei servi e possiamo parlare anche di un popolo che è culturalmente ignorante che si trova davanti quello che gli mette davanti le scritte in ebraico quello che gli parla di cose sumetti cose che non conoscono e che cade continuamente in questa ragnatela di disinformazione a 360 gradi che stanno che stanno creando poi se gli chiedi a queste persone di venire a confronto ovviamente fuggono non vengono ma tant'è che controllano tutta l'informazione loro e quindi siamo costretti a partire dal basso per per cercare di portare avanti queste verità scomode al potere al fine di far cadere una volta per tutte questo un potere millenario che sta schiacciando attenzione non solo in Italia ma i popoli di tutto il mondo sono 4-5 gli stati in tutto il mondo che hanno ancora la sovranità monetaria pensate che la Russia ha ripreso la sovranità monetaria nel 2017 perché nel 1917 l'ha perse a favore dei Rothschild dopo 100 anni hanno ripreso in mano la sovranità monetaria con la banca con la banca di Russia ma queste cose le persone non le sanno la stessa banca di Cina i Rothschild hanno il 25% di azioni nella banca di Cina allora cari youtuber cari blogger voi state tradendo il popolo dei grandi costruttori per favorire i nostri ex garzoni Xos vi prendete la responsabilità di quello che state facendo state andando contro il popolo e occhio perché il popolo ha memoria questa volta non riusciranno a fare come hanno fatto in passato dove hanno creato finte rivoluzioni per ricreare un potere in mano ai soliti no di questi banchieri facendo finta che con quella rivoluzione avevano fatto cadere il potere cattivo il giochetto è sempre quello quello che fanno questa volta queste scoperte gli faranno male molto dopodiché se il popolo capirà qui ci sono migliaia e migliaia di imprenditori che si sono suicidati stanno buttando in povertà milioni di persone hanno precluso il presente di tutti noi e il futuro dei nostri figli faranno versare il sangue dei nostri figli per liberarsi da questa dittatura e tutti quanti vanno dietro come beoni a questa disinformazione non solo attaccano chi gli svela la verità invece di attaccare chi ha creato gli inganni attaccano parlo del popolo non dei serbi loro fanno il loro mestiere da serbi attaccano chi svela la verità invece di attaccare chi ha creato gli inganni allora ragazzi a quel punto chi è a causa del suo male pianca se stesso se non riuscite a capire che tutti i politici sono solo marionette controllate da questi banchieri che o la Meloni o Renzi o Zingaretti o Letta o il Movimento 5 Stelle di Forza Italia la Lega sono solo burattini manovrati da questi banchieri cara Giorgia Meloni sei pulita usa l'articolo 43 riprendi in mano tutte le industrie in primis Leni abbiamo risolto il problema delle bollette e hai la legge per farlo ma non lo fa fa parte della Spennisti tutta la la cara Giorgia Meloni figuriamoci cara Giorgia Meloni tutto al centro-destra perché non riprendete in mano la sovranità monetaria e usciamo subito fuori dall'Europa perché anche quelli che ci dicono Italia Exit fuori dall'Europa signori se usciamo fuori dall'Europa guardate che non cambia niente perché Banca d'Italia è sempre una SPA privata quindi per uscire fuori da questa dittatura dobbiamo riprendere in mano la banca Banca d'Italia deve essere dello Stato e lo Stato deve coincidere con il popolo spero che questo sia chiaro a tutti quanti altrimenti continueremo a stare sempre sotto dittatura e continueremo ad andare dietro i loro dividi e timpera con le varie bufale che portano avanti quando qui la battaglia non la battaglia ma la guerra di tutte le guerre deve concentrarsi su una sola cosa riprendere in mano la stampa della moneta la sovranità monetaria riprenderci tutte le industrie che ci hanno tolto bonificare il territorio a quel punto lo Stato stampa i soldi e può fare la bonifica del territorio perché tutti questi morti poi che vengono ragazzi ma di chi è la colpa non sono sempre dei politici perché non viene bonificato il territorio perché ci sono persone che sono costrette a fare case abusive l'edilizia se uno non ha i soldi che sia fatta un'edilizia popolare a quel punto lo Stato non ha più problemi di soldi si rimette in moto l'edilizia rimette in moto tutto ragazzi le fabbriche in un attimo si riavviano io vorrei ricordare a tutti quanti voi che un esempio del genere e non lo sto prendendo come bell'esempio per quello che è successo dopo ma solo come esempio per quanto riguarda cosa vuol dire riprendere in mano la sovranità monetaria ce l'ha dato Rothschild ce l'ha dato Hitler quando nel 1939 riprese in mano la sovranità il 1900 scusate prima 33 riprese in mano 39 riprese in mano la sovranità monetaria ma prima ancora creò certificati di deposito in cambio delle ore lavorative e riavviò in un attimo tutta l'economia ne fece la prima potenza al mondo solamente riprendendo in mano la stampa della moneta ok ragazzi arrestò addirittura Rothschild poi prese accordi con lui perché comunque non riuscì a svincolarsi totalmente dal controllo di questi banchieri e dalla massoneria ma io non lo sto prendendo come un bel esempio sto solamente dicendo questo per farvi capire come una nazione dove c'era il 50% di disoccupazione nel giro di sei anni e diventò la prima potenza al mondo avere il controllo del denaro da parte di uno stato e la sovranità monetaria vuol dire riavviare in un attimo tutta l'economia dare lavoro a tutti un lavoro che non sia usurante perché con l'automatizzazione del lavoro oggi possiamo permetterci con le industrie che lo stato si riprende di dare lavoro a tutti ma senza che questo lavoro sia usurante per i lavoratori perché se il popolo coincide con lo stato è il popolo che decide quello di cui ha bisogno e quanto deve lavorare per produrre quello di cui ha bisogno a quel punto con l'automatizzazione del lavoro basterebbero tre ore di lavoro a testa per poter produrre quello di cui abbiamo bisogno le politiche sociali verrebbero prese dal basso con assemblee di quartiere dove si decide quello che serve e da lì poi lo stato stampa il denaro per avviare quello di cui ha bisogno il popolo purtroppo ragazzi il problema è che tutta l'informazione è controllata dalla massoneria tutto il mainstream e purtroppo consapevolmente più o meno consapevolmente o inconsapevolmente blogger e youtuber stanno dalla parte del deep state dello stato profondo alimentando questa continua distrazione di massa con bufale continue che sono a favore del potere ecco perché poi Alessandro De Angelis dice la verità e non può arrivare a certi livelli per portare avanti scoperte storiche di livello mondiale anzi le più grandi scoperte storiche di tutti i tempi perché dire che Gesù è l'ultimo figlio del reo del grande vuol dire rifare il presepe a Natale togliere Giuseppe si mette Erode Maria e Gesù dopodiché mi direte ma scusa perché Gesù era figlio di Erode perché dove sono andati i magi non sono andati da Erode il grande a Gerusalemme a portargli i doni perché sapevano che gli stavano per nascere l'ultimo figlio dopodiché quando Erode scoprì la cospirazione fuggirono in Egitto lì Maria sposò Teuda ebbe ben sei figli da Teuda e alla morte di Teuda che intorno al 4 avanti Cristo cercò di fare una rivolta sposerà per levirato suo fratello il fratello di Teuda Giuseppe ce lo dice Egesippo ed altre fonti e la storia l'hanno cambiata perché non potevano giusto Erode era un plurio omicida non potevano certo costruire un Gesù figlio di Dio su un Gesù figlio del plurio omicida Erode che uccise mogli tre figli suocera cognati zii tantissimi parenti tantissime persone e Gesù invece stiamo scrivendo l'ultimo libro Gesù l'Egiziano dimostreremo perché hanno nascosto e censurato trentanove anni di vita di Gesù trentanove non trentatré trentanove anni adesso aspetta Gesù aspetta perché è così scomodo glielo faremo diventare scomodo perché fece un ritorno alle società ma alle società neogilaniche egualitarie tant'è che lui si oppose poi al al signoraggio bancario possiamo leggere anche alcuni passi per esempio no? nel Vangelo di Tommaso un attimo sono Gesù disse se avete denaro non prestatelo a interesse piuttosto datelo a qualcuno da cui non lo riavrete perché apparteneva alla setta dei nazorevi dei terapeuti da cui poi Nazareth ma non era Nazareth erano delle sette che vivevano in Egitto questi terapeuti conducevano una vita ascetica tendevano a mettere tutti i loro beni in comune tra di loro non c'era chi poteva possedere più di altri e addirittura sacrificò la sua vita per salvare il popolo di Gerusalemme ma quando nel 68 dopo Cristo durante la prima guerra giudaica vi abbiamo portato tutte le prove documentali di quello che stiamo dicendo nei nostri libri quindi vi trovate davanti a scoperte storiche che sono scomode al potere e devono essere censurate per questo non le fanno passare siamo costretti a farle partire dal basso ma quello che voglio che le persone capiscono è che queste nostre scoperte sono in grado una volta per tutte di distruggere questo sistema di potere criminale plurimillenario che dura da 5.000 anni allora capo popolo italiano che cosa volete fare volete continuare a piangervi addosso e continuare a seguire le distrazioni di massa oppure che vi propongono oppure anche se è cosa faticosa volete iniziare a leggere queste prove storiche che vi portiamo a documentarvi e aiutarci per uscire fuori una volta per tutte da questo sistema criminale di dittatura e per riprenderci in mano l'Italia e poi se si liberano Stato se ne liberano a ruota tutti gli altri e spancurare una volta per tutti questi criminali da questo potere millenario su cui si sono seduti da ben 5.000 anni a voi la scelta Salvatore se ci sono domande posso rispondere alle domande altrimenti io questa trasmissione la chiuderei qui allora più che altre domande che hanno fatto gli spettatori te le ho passate in beh non erano domande erano considerazioni che che erano a favore con tutte le mie domande e adesso gli diamo l'ok per le domande però nel frattempo io volevo chiederti quelli là che dicono perché sto Gesù io non ho capito percorrendo diciamo pare strade io non ho capito se sto Gesù era una brava persona oppure un uffidente di merda parlandoci chiaro non ho capito se è Gesù se Gesù sto Gesù era una brava persona o è un fedente pure lui perché in alcune cose questo Gesù ha fatto come hai detto tu ha dato la vita per salvare il popolo di Strayola eccetera di Gerusalemme durante la mia guerra di Rai però nello stesso tempo io su su Luca 1927 io trovo che Gesù disse scannate in mia presenza tutti coloro che non vogliono il mio regno allora ragazzi il ministero di Gesù lo tratteremo nel prossimo libro perché è stato interamente costruito riprendendo frasi e storie avvenute precedentemente che hanno coinvolto altri personaggi nell'Antico Testamento e quindi le cose se leggete il ministero di Gesù non riuscirete a capire assolutamente nulla nel libro il re dei re per la prima volta questo libro abbiamo pubblicato tre pagine tre pagine ragazzi di un vero discorso di Gesù pubblicato da Tito Flavio Giuseppe prima che fu ucciso da Idumei e Zeroti nel 68 troppo Cristo lì emerge una figura che è completamente diversa dal Gesù che vi hanno proposto durante questo ministero una figura di un uomo carismatico che organizzò anche militarmente il popolo per difenderlo ecco perché dico lasciate perdere i racconti dei Vangeli perché quel ministero è stato costruito attingendo a profezie dell'Antico Testamento e leggete questi libri così avrete una visione chiara di chi era realmente questo personaggio ed è una qualcosa di completamente diverso da quello che vi hanno proposto fino ad ad oggi noi abbiamo addirittura ricostruito tutto il processo di Gesù in base alle nostre scoperte storiche stiamo facendo tantissime puntate su tutto questo ma solo sul processo bisognerebbe fare una puntata a parte per capire tutto quello che è successo magari la faremo in seguito e lo spiegheremo quello che va beh la facciamo in seguito io vorrei farlo proprio uno su esclusivamente su Gesù a di là del signoragge Vangeli eccetera eccetera perché io vorrei sapere visto che ci sono anche altri punti che dicono che Gesù andò in un monastero ad Eliopoli monastero buddista per elevarsi e prendersi il rap e infatti ci sta e infatti io poi sono stato pure da Alessandro d'Egitto proprio in questo monastero per vedere dov'era che Gesù era andato per Trentesità e ci sta non solo diamo solamente un piccolo anticipo senza svelare niente abbiamo trovato addirittura reperti archeologici di Gesù in Egitto ma dove veniva chiamato con un altro nome uscirà tutto il prossimo anno con un libro bomba gli anni perduti di Gesù e comunque lì sta il fatto che Gesù andava lì per prendersi il rap e infatti poi ci sono dei mazzoni che dicono che adesso loro vogliono fare i venditi che non sono più mazzoni eccetera eccetera e dicono che Gesù quando noi andiamo in chiesa a pregare Gesù in effetti stiamo pregando il sole beh l'ossia solare il cristianesimo è un dottrina solare l'ossia altri non rappresenta che il sole un ritorno quindi a quell'atone egizio che Achenaton su cui Achenaton poi impose il primo enoteismo mettendolo a capo di tutte le altre divinità egizie su Gesù la cosa è ancora un po' diversa perché poi c'è anche un processo di ellenizzazione oltre che di quindi verranno messi in mezzo un sincretismo tra dei egizi dei ellenici perché loro comunque si allearono con gli antenati di Erode il nonno di Erode poi il padre di Erode con i tolemaici durante la guerra degli escettri e Tolomeo I era uno dei diatochi di Alessandro Magno generale di Alessandro Magno a lui fu dato l'Egitto e lui costruì il Serapeum ad Alessandria d'Egitto il Serapide altri non era che il sincretismo tra il dio egizio l'api egizio Osiride e Zeus greco tant'è che viene raffigurato poi con la faccia barbuta molte caratteristiche iconografiche di Gesù sono state riprese proprio da da Serapide Paolo di Tarso fece un processo di ellenizzazione con il cristianesimo dovettero spancolare l'agnosi l'ognosticismo per abbracciare una nuova dottrina dove non c'era più bisogno di della circoncisione per i gentili perché abbracciava questa dottrina proprio perché portavano avanti un processo di ellenizzazione con il cristianesimo comunque sia ragazzi leggendo i libri vi chiarirete le idee su tantissime domande che vi state ponendo anche sulla genealogia di Gesù abbiamo ricostruito tutta la genealogia ok allora io direi a questo punto visto che non ci sono più domande da fare che possiamo pure chiudere la trasmissione poi magari ne facciamo un'altra quando mi sento meglio perché voglio intervenire di più oggi mi sono assentato proprio perché a causa di questa influenza sai quando c'è una certa età ci metti più tempo a riprenderti la convalescenza dura di più quindi non me la sento anzi mi viene dato sì ogni poco infatti sono costretto pure a togliere il video mio quindi ti consiglio voglio chiudere facendo un appello se ci sono persone che sono ancora in buona fede che sono state ingannate perché molti massoni sono stati ingannati dai loro maestri che non conoscevano la storia leggessero le nostre scoperte storiche perché stanno tradendo il giuramento di obbedienza che hanno fatto nei confronti dei grandi costruttori a favore degli Ixos di quelli che erano i nostri ex Garzoni i Rothschild appartengono all'aprogruppo J2 non appartengono ai popoli dei grandi costruttori quindi saranno ricordati come traditori a questo punto del popolo italiano un popolo che lo stanno distruggendo etnicamente attraverso il piano Calergi attraverso un'invasione ben mirata con etnie che hanno usi e costumi non integrabili con i nostri ma lo vediamo ci sono intere città ormai allo sbando e questo progetto guarda caso è stato portato avanti proprio da questi Ixos per distruggere una vendetta ben mirata il popolo dei grandi costruttori con i massoni che li stanno appoggiando se prima li appoggiavano inconsapevolmente adesso aprissero gli occhi e iniziassero a riflettere lo stesso vale per tutti quei blogger influencer youtuber che stanno favorendo questo piano con questa disinformazione mirata dove vogliono costruire una nuova religione new age dove si passa da un dio creatore a alieni creatori favorendo così progetto the world economic forum in maniera subliminale dell'eugenetica perché è ovvio che se ci hanno creato degli alieni ebbè allora è cosa buona e giusta usare poi l'eugenetica ma lo so anche per primo Hitler come progetto futuro per il transumanesimo o questo occhio che tutto vede per il controllo sociale come stanno facendo in Cina e in Cina si stanno cominciando a ribellare le persone ragazzi in Europa uguale qui in Italia sono tutti addormentati da questi distrattori quindi io ho chiesto questa puntata a te per mettere alle strette un po' tutti questi personaggi che si prendano le loro responsabilità perché saranno ricordati come traditori del popolo italiano e poi popolo la memoria è lunga questa volta non so se riusciranno a fare il solito giochetto se vincerà veramente il world economic forum se riusciranno a metterci realmente sotto dittatura questo lo vedremo ma se non ci riusciranno poi chi ha tradito ne pagherà le conseguenze e con questo Salvatore grazie per averci ospitato e un saluto a tutti i nostri ascoltatori invitandoli uno a iscriversi al nostro canale YouTube Alessandro De Angelis Official Channel dove ci sono tantissimi video dove abbiamo approfondito tutte queste tematiche e le possiamo quindi vedere tranquillamente e due li invito anche a leggerli questi libri perché si trovano davanti a scoperte storiche di livello mondiale che stanno subendo una congiura del silenzio altro qui che il medioevo questi ci stanno riportando all'era delle caverne dei troglotiti e quindi cari influencer cari youtuber cari blogger prendetevi le responsabilità di quello che state facendo noi non lo facciamo passare chi mi chiama si prende la responsabilità di chiamarmi io la verità la dirò sempre davanti a tutti fino all'ultimo diffondete e aiutateci anche nel diffondere questo video che sono video importanti se non capiscono che siamo sotto dittatura con un perché ci hanno tolto la sovranità monetaria qui è come dire 2 più 2 fa 4 e questi continuano a stati tra chi gli dice 2 più 2 fa 5 a questi distrattori stop mettiamo il punto su una cosa sola combattiamo tutti quanti insieme per riprenderci la sovranità monetaria tutte le aziende le industrie che ci hanno levato riprendiamoci il presente l'Italia e il futuro soprattutto dei nostri figli altrimenti qui saremo anche noi corresponsabili del futuro dei nostri figli che saranno costretti a versare il loro sangue per potersi liberare da questa dittatura millenaria con dei genitori che se ne sono fregati genitori impecini dai salutiamo tutti allora buonasera vedo che non ci sono domande buonasera e alla prossima io chiudo qui la trasmissione buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti